i picciotti di sicilia tutto tondo guardate dove vi abbiamo portato siamo a bronte e alla saga del pistacchio iniziamo così lasagna al pistacchio salsiccia a pistacchio e straccetti di carne ripieni di pistacchio picciotto ora andiamo a fare una bella buffata assaggio e si fa ovviamente se alla saga del pistacchio di bronte non ti prendi l'arancina al pistacchio e noi già abbiamo provveduto eccola procediamo all'assoggio capiamo meraviglia di pistacchio siamo pieni di pistacchio allora picciotti adesso stiamo mangiando questa porchetta con il pistacchio e maionese al pistacchio mamma mia che goduria questa è tutta granella di pistacchio c'è pure guarda questa è la maionese al pistacchio e questo è un panino con la porchetta e cipolle ah ma insomma ricchiamo questo pistacchio altro assaggio salsiccia a pistacchio allora picciotti continuiamo perché la saga non è finita ancora dobbiamo arrivare al dolce guardate che meraviglia guardate che meraviglia e adesso passiamo al dolce picciotti con la crema di pistacchio questa crepe gigantesca picciotti crepe al pistacchio è bollente ma con il suo calma brucio guardate quanto pistacchio questo dolce finalmente si passa al dolce guardate che meraviglia ovviamente picciotti ci stiamo facendo la scorta prima di tornare a casa di tutte queste cose meravigliose ci vuole la scorta ci vuole e continuano le cose meravigliose al pistacchio e passiamo dal gelato al cioccolato e non solo dolce anche il suino nero de nebrodi allora io mi toffasse in mezzo a tutto ci sto bene del dio è una meraviglia oh ciavoro ciavoro allora picciotti noi abbiamo fatto la scorta di creme al pistacchio dolce salato croccanti un po' di tutto ora noi vi salutiamo e concludiamo con questo bel caffè al pistacchio guarda qua caffè al pistacchio picciotti noi vi salutiamo al prossimo video ciao ciao ciao